Ecco, io ho avuto una volta. Prendiamo questa, poi da domani pensiamo alla partita di giovedì. Cerchiamo di non... non voglio tornare indietro, non voglio tornare indietro. Voglio che questa sia anche queste partite che sulla carta può sembrare fare. Ieri la Virtus è giocato contro una squadra che hanno giocato con intensità. Non è che stiamo a guardare, questi non sono forti. Quindi giochiamo, 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 giochiamo e cerchiamo di essere squadra il più possibile. Perché le partite si vincono quando si è squadra. Il singolo può avere 5 minuti di protagonista, però poi è la squadra che vince. E anche quando si segna, diamo merito a chi segna, a chi fa l'assist e a chi difende in quelle circostate. Perché le vittorie nascono dal portiere e finiscono all'ultimo uomo della panchina. Noi dobbiamo entrare in questa mentalità che siamo un gruppo, si vince il 18. Non però si vince anche venendo a fare l'allenamento, Masciarelli. È l'ultima chance che ti do. L'ultima. Dopodiché agisco di conseguenza. Non mi devi prendere in giro, non prendi in giro a me. La società prendi in giro la società, prendi in giro il zio Carlo. Persone che lavorano per te. Tu sei un elemento di questa squadra. Ti sei impegnato di venire a fare l'allenamento. Ma vale per Masciarelli e vale per tutti quanti qui. Ok? Per questo magico gruppo. Il PIP URA! Il PIP URA! Bravo raga, diamo. Grazie! Sì, già l'hanno portato in panchina.